Una volta diventato un nuovo paziente e sottoposto a valutazione, si indicheranno le opzioni di trattamento raccomandate. Il California Center for Reproductive Medicine fornisce tutti i trattamenti di fertilità per poter avere un bambino sano. Per esempio, forniamo trattamenti di fecondazione in vitro per pazienti che necessitano di tale opzione per poter concepire un bambino. Forniamo surrogazione quando una madre surrogata è richiesta per portare avanti una gravidanza. Inoltre forniamo donazione di ovuli quando una donatrice di ovuli è richiesta per avere un bambino. Il nostro laboratorio di fecondazione in vitro è all'avanguardia. Forniamo iniezioni di spermatozoo intracitoplastica con cui assistiamo la fecondazione di ogni ovulo con uno sperma individualizzato. Inoltre forniamo culture blastocistiche. Studi hanno dimostrato che ci sono tassi di gravidanza più alti se l'embrione è trasferito allo stadio di blastociste. Siamo inoltre specializzati a diagnosi genetiche preimpianto. Questa procedura può aiutare ad avere un bambino sano. Forniamo selezione del sesso per bilanciamento familiare così come la conservazione della fertilità in pazienti diagnosticati con cancro. Forniamo inoltre altri trattamenti come l'induzione dell'ovulazione e l'inseminazione intrauterina. Vi invitiamo quindi a venirci a trovare per discutere delle diverse potenziali opzioni per avere un bambino.